Ciao a tutti, parliamo brevemente del genere Lobivia questa volta perché ne ho rinvasate alcune che dopo vi faccio vedere e quindi ho pensato insomma di due parole su questo genere che è molto diffuso. Una premessa, da moltissimi, anzi ufficialmente questo genere non esisterebbe neanche più perché è stato ricompreso nel genere Echinopsis che è un altro genere di cactus molto molto vasto che contiene tantissime piante e dal punto di vista diciamo dei ricercatori il genere Lobivia confluisce in Echinopsis però si può parlare ancora di Lobivia semplicemente perché tra gli appassionati, i vivaisti, i coltivatori questo genere tutto sommato è resistito, cioè si parla ancora di Lobivia e si distingue dagli Echinopsis veri e propri in effetti alcune differenze ci sono, non tanto nelle piante perché le varie specie presentano tutte diverse caratteristiche ma diciamo nel fiore perché gli Echinopsis tendono a produrre un fiore cosiddetto a forma a tromba cioè dallo stelo molto lungo e dalla corolla molto ampia che si apre oltre tutto nelle ore notturne e dura fino a diciamo il mezzogiorno o metà della giornata successiva. Lobivia invece producono dei fiori a forma diciamo di imbuto abbastanza grandi anche questi molto colorati molto appariscenti però diversi appunto perché non hanno questo stelo così lungo come gli Echinopsis e hanno un'apertura diurna, non notturna, quindi si aprono durante il giorno sono aperti durante tutta la giornata, durano come quasi per tutte le cactacee pochi giorni due o tre o quattro giorni, quello che dipende un po' anche dalle temperature. Qui stiamo vedendo un po' di alcuni esemplari, io prediligo quelli con le spine molto robuste come vedete, sono soprattutto Lobivia ferox, è una specie che a me piace moltissimo e che dopo vi faccio vedere che ho seminato in una certa quantità e hanno delle spine veramente notevoli, poi chiaramente ci sono specie di Lobivia per esempio questa con spine molto più fitte ma più sottili, più rade come anche questa però la maggior parte di quelle che vedete qua sostanzialmente sono delle varianti o comunque delle Lobivia ferox. È un genere molto interessante, ne parlo anche nelle schede che ho preparato nel mio sito, provate nello shop del mio sito, adesso qui vi faccio vedere qualcuna che ho stampato ma acquistandole si riceve un pdf che può essere consultato tramite telefonino, computer, dispositivi vari o anche stampare appunto come ho fatto io in questo caso. Qui il genere Lobivia non c'è ancora perché lo pubblicherò tra oggi e domani ma sarà disponibile sul sito tra le varie schede, quindi andate a vedere, vi metto il link qui sotto sono dei pdf di almeno 4-5 pagine per ogni genere, ce ne sono circa 30 ormai sul sito di generi disponibili, quasi tutti di cactus perché in questo momento mi sto concentrando su questa famiglia ma ci sono anche i litops ad esempio già disponibili che non fanno parte della famiglia delle cactacee. Qui in queste schede trovate tutto quello che riguarda la coltivazione del vario genere, ad esempio questa è la scheda gratuita, la potete scaricare la può scaricare chiunque gratuitamente dal sito proprio per rendersi conto di com'è il prodotto sostanzialmente, quindi vedete ci sono diverse foto sempre di mie piante, qualche grafica e poi la descrizione, tutto quello che serve da sapere su questo genere, la descrizione, l'origine della distribuzione, la classificazione, coltivazione, che tipo di substrato vogliono, annaffiature, fertilizzazione, la semina, insomma tutte le informazioni necessarie con foto come potete vedere e testi interamente inediti originali naturalmente, diversi da quelli che trovate sul sito, molto più approfondite queste schede rispetto a quelle che si trovano sul sito. Ne volevo parlare proprio perché ho in programma la scheda dell'Elobivia che verrà messa sul sito a brevissimo, tra oggi e domani, ripeto, quindi se andate allo shop e vedete, se vi interessa il genere, che è molto affine, ripeto, all'Echinopsis, anche su Echinopsis è già pronta la scheda, c'è già disponibile, potete dare appunto un'occhiata, vi metto come sempre il link qui sotto. Adesso ci fermiamo un secondo perché mi sposto, perché ce l'ho da tutt'altra parte della sera, vi faccio vedere alcune delle Lobivia ferrox che ho seminato io alcuni anni fa e devo dire con dei risultati notevoli perché hanno delle spine veramente, veramente interessanti. E chiudiamo su quelle appunto che ho seminato io, che sono più piccole di dimensione rispetto ad esempio a quelle là grosse che sono con me da tanti anni, però stanno sviluppando delle spine eccezionali e sono già in età da fiore. Ci spostiamo un secondo. Eccoci allora sulle Lobivia ferrox che ho seminato io, questi sono semine del 2017, l'ho visto dal cartellino, come vedete sono in vasi ormai fin troppo piccoli perché sono cresciute notevolmente, andrebbero rinvasate, adesso per motivi di tempo quest'anno non ce la farò, l'anno prossimo queste comunque le rinvaso. Vi faccio notare le spine di queste piante, sono veramente una cosa eccezionale, alcune le hanno lunghissime come questa, se io non so stimare, ma a una decina di centimetri ci arriviamo in proporzione con la mano, dovreste riuscire a capire, questa è veramente un esemplare notevole, quest'altra anche ha prodotto spine di circa una decina di centimetri, veramente eccezionale. E qua invece ad esempio questa ha una spina molto corta, è uscita così perché io tra parentesi ho seminato due tipi di Lobivia ferrox, avevo due diversi esemplari di piante madri, le ho incrociate, in alcuni casi sono uscite piante abbastanza fedeli alla pianta madre, questo ad esempio è un fiore secco, questo per farvi capire che hanno già fiorito queste piante, quindi pur essendo di dimensioni ancora relativamente contenuti, i vasi sono da 7 centimetri, però ormai sono da cambiare, hanno già fiorito più volte. In alcuni casi le spine sono uscite molto corte, molto più robuste e corte, in altri le spine, quelle che preferisco io, sono quelle lunghe e sottili, come questa che è una cosa eccezionale, ritengo, e queste l'anno prossimo verranno rinvasate. Chiudiamo sulle ultime, visto che ne ho rinvasate due o tre stamattina, qui, eccole qua, le ho messe qua per notizie di spazio non riesco a tenere le vicine, queste sono da rinvasare, sono della semina, credo anche questa, 2017 se non ricordo male, quelle che ho rinvasato sono lì, come vedete le ho messe in vasi belli e ampi, in modo che le ultime due, soprattutto, poi ne ho altre due da un'altra parte, e in modo che possano crescere e svilupparsi, guardate anche questa che è spina notevole, stanno dando dei risultati eccezionali, devo dire come spine sono molto soddisfatto, hanno delle fioriture bellissime perché il fiore è abbastanza grande, anzi relativamente grande rispetto alla pianta, di colore bianco, in questo caso hanno il colore bianco, però ci sono anche delle varianti col giallo e di altri colori, quelle che ho ottenuto io sono tutte fiori bianco, qui vedete ad esempio, questo è un fiore secco, ecco, viene via, questo era un fioretto che probabilmente non è riuscito ad arrivare a compimento, la fioritura, e quindi lo togliamo, adesso qui invece c'era uno, vedete, questo invece aveva fiorito, però sono tutte piante che hanno già fiorito, quindi sono piante che danno soddisfazione perché anche a, diciamo, relativamente giovani, comunque a dimensioni contenute come sono queste, sono già in grado di fiorire e di produrre queste spine, veramente, a mio avviso, notevoli, guardate qua, guardate che spina questa, e queste sono quelle, sempre mia semina, 2017, ok, direi che io, ecco, tengo quasi esclusivamente le Ferox perché è la mia specie preferita, però il genere, lo B, vi ammesso che di genere si possa parlare, come ho detto in premessa, raccoglie veramente, penso più di 150 specie, secondo molti ricercatori, però, ecco, ripeto, è considerata sinonimo di Echinopsis e la maggior parte dei ricercatori le classifica proprio come Echinopsis, ormai non più lo bivia. Troverete però tutte queste informazioni, così come tutto quello che riguarda la coltivazione di questo genere di cactus nella scheda che vado a preparare e che sarà sul sito a breve. Per il resto vi metto un po', come al solito, i contenuti, ricordatevi, se vi piace il sito, se volete di dare un'occhiata e se vi piace di abbonarvi, ma anche di mettere magari mi piace alla pagina, il solito mi piace al canale YouTube, controllare per chi ha Instagram, vedere insomma i vari social per aiutare anche il sito a crescere perché sta andando molto bene e più siamo e più contenuti posso dare al sito, insomma, quindi anche su Facebook, moltissimi, siamo già in quasi 5.000 persone, quindi se volete iscrivervi alla pagina di Facebook vedrete tutti gli aggiornamenti che io metto, anche semplicemente magari delle banali foto, quando vedo una pianta in fiore la pubblico, la posto, quindi non è sempre come dire per pubblicizzare articoli del mio sito, ma anche per far vedere semplicemente le piante e farle conoscere, insomma, così si imparano anche a riconoscere le piante. Ok, direi che ho detto un po' tutto, trovate i link qui sotto, grazie a tutti.